Musica Ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buonascolto. La regione investirà 12 milioni e mezzo di euro per la raccolta differenziata che dovrà essere attivata in tutti i comuni del Molise. Nei prossimi giorni l'assessore all'ambiente Vittorino Facciolla incontrerà i sindaci per illustrare i contenuti del progetto e le modalità operative. Ci dice tutto in apertura Giovanni Minicozzi. La regione cambia rotta sulla filiera dei rifiuti e punta tutto su un progetto di raccolta differenziata incendivando i 136 comuni che dovranno attivarla in tempi brevi. È previsto infatti per il prossimo 20 dicembre un incontro operativo con tutti i sindaci convocati dall'assessore all'ambiente Vittorino Facciolla. Ormai abbiamo terminato questo progetto che cercherà di mettere in rete l'esigenza di tutti quanti i comuni del Molise di poter iniziare e avviare un sistema serio di raccolta differenziata. Abbiamo cercato di mettere insieme le diverse candidature che hanno proposto i comuni nell'ambito degli interventi di programmazione PIT-Pisupai. Abbiamo recuperato ulteriori risorse, le abbiamo redistribuite in termini di premialità per fare in modo che davvero al cittadino molisano per ogni comune li volesse offerto un sistema di raccolta differenziata porta a porta, come si suol dire, chiave in mano. Quindi un passo in avanti straordinario che consentirà alla nostra regione nell'ambito di pochissimi mesi, al massimo un anno, di allinearsi per percentuali di raccolta differenziata alle migliori regioni d'Italia. Questo comporta anche un abbassamento dei costi per il conferimento nelle discariche? Necessariamente sì. Il ragionamento che ci ha mosso è stato da una parte quello di finanziare i comuni per fare in modo che il costo per il cittadino, quindi il costo procapite per il cittadino della Tarso fosse molto basso in quanto i comuni stessi erano proprietari dei mezzi che servivano per realizzare il sistema di raccolta differenziata. È evidente che se l'investitore privato, chi deve gestire il servizio, non fa investimenti e non deve portare in ammortamento dei costi iniziali, ma se li fa il comune, il gestore del servizio dovrà necessariamente e esclusivamente mettere a disposizione la mano d'opera e quindi il comune sosterà il costo dell'allocazione della mano d'opera, quindi costi molto contenuti. Da una parte e dall'altra un investimento di politica del sistema di raccolta differenziata all'avanguardia, ovvero trovare un accordo con la nostra discarica pubblica, che è quella di Montagano, gestita dalla comunità Montagano, per abbessare di molto il costo del conferimento dell'umido. Il costo del conferimento dell'umido, con una convenzione che sottoscriveremo nei prossimi giorni, passerà dalle circa 90 euro a tonnellata alle 55 euro a tonnellata. Questo è quello che serve al nostro territorio, che potrà beneficiare del prezzo più basso d'Italia per il conferimento dell'umido. Quanto costerà alla Regione l'intera operazione? Allora, l'intera operazione alla Regione costerà qualche cosa come 12 milioni e mezzo di euro, quindi una cifra importante che servirà a definire in maniera importante le procedure che dovranno sovrendendere ad un'azione di servizio di raccolta differenziata efficiente, efficace e a questo punto anche economico. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché la domenica si è trasformata in tragedia per una famiglia di Campobasso che stava rientrando a casa sulla Bifernina, in territorio di Guglionesi. La Peugeot, sulla quale viaggiavano padre, madre e figlia di due anni, si è schiantata contro il rimorchio di un trattore. La donna di 44 anni non ce l'ha fatta. Sentiamo Manuela Iorio. Terribile incidente sulla Bifernina nei pressi del bivio per Guglionesi tra una macchina e un trattore. Una domenica passata nell'atmosfera natalizia si è trasformata in tragedia per una famiglia di Campobasso che viaggiava su una Peugeot 206 e che stava rientrando a casa. A perdere la vita è stata una donna, 44 anni, Maria Rosaria Fiorito. Era seduta al lato passeggero e non dietro, come si era detto in un primo momento. Sui sedili posteriori, invece, nel suo seggiolino c'era la figlia di tre anni. Il marito, 45 anni, era invece alla guida. Loro stanno bene, solo qualche piccola contusione miracolosamente scampati a uno schianto omicidiale. Sono stati dimessi già ieri sera dal Santimotio di Termoli, dove erano stati portati dal 118 e dalla Misericordia. Per la donna, invece, non c'è stato nulla da fare. È morta sul colpo. La Peugeot, sulla quale viaggiava, si è schiantata con violenza contro il rimorchio di un trattore, guidato da un uomo di 69 anni, che stava lasciando la bifernina e stava svoltando a destra per raggiungere un'azienda agricola. La zona è quella subito dopo il conservificio, dunque un rettilineo su cui non sono stati trovati segni di frenata. L'impatto è stato tremendo, la macchina andata completamente distrutta, l'abitacolo sventrato dalle lamiere spigolose del rimorchio. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri di Guglionesi, a cui è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica. Hanno accertato che il rimorchio era adeguatamente illuminato. Ora c'è da capire cosa sia successo e a che velocità procedesse l'auto. Il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni. Intanto, questa mattina è stata eseguita l'ispezione cadaverica nella camera mortuaria del cimitero di Guglionesi, dove è stato accertato che il decesso della donna è avvenuto per il gravissimo trauma cranico riportato con l'incidente. Un subemendamento in commissione bilancio per porre rimedio alla cancellazione del fondo destinato alla Termoli San Vittore. L'ipotesi alla quale lavorano i deputati molisani del PD Danilo Leva e Laura Vennitelli, dopo che la stessa commissione ha modificato una precedente decisione assunta dal Senato, in base alla quale invece era previsto il finanziamento dell'autostrada del Molise. Nel caso non dovesse esserci modo per arrivare al subemendamento, hanno fatto sapere i due deputati, il percorso potrebbe essere quello di una modifica in aula oppure far inserire il provvedimento direttamente dal governo. Su questo argomento il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Nicola Cavaliere, ha presentato un'interrogazione al governatore Frattura, ci dica, ha detto Cavaliere, se vuole difendere il progetto che darebbe una scossa decisiva al settore dell'edilizia e favorirebbe la nascita di nuovi posti di lavoro. Il collegamento ferroviario Campobasso-Roma è tra i dieci peggiori d'Italia, lo dice il rapporto pendolari a 2013 di Lega Ambiente. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Che la linea ferroviaria Campobasso-Roma fosse nella lista nera è cosa ormai risaputa. A conferma della criticità della situazione arriva il dato del rapporto pendolari a 2013 di Lega Ambiente, secondo il quale il collegamento con la capitale è tra le dieci peggiori d'Italia. Un rapporto illustrato nell'incontro organizzato nella sala del dopolavoro ferroviario a Campobasso dal titolo eloquente binario 21 bis ad indicare il binario che è stato assegnato al collegamento con il Molise alla stazione Termini, l'ultimo binario. In Molise c'è rabbia, rammarico, per uno stato di cose che va avanti da troppo tempo senza che nessuno ad oggi abbia fatto qualcosa. Dal rapporto che abbiamo condotto sulla efficienza delle linee ferroviarie, la nostra linea Campobasso-Roma è una tra le dieci peggiori d'Italia. Devo dire la verità, non ci voleva uno studio approfondito perché ce ne eravamo accorti anche da soli perché i treni si fermano, i treni sono sporchi, i treni scaricano e ricaricano passeggeri senza essere puliti. Questo è una cosa che contrasta persino con lo stesso concetto di benessere animale che adesso sta trovando diretto di cittadinanza in tutte le nostre disquisizioni quando si parla di animali. Evidentemente il trasporto molisano non ci include nemmeno tra gli animali perché è il servizio di una tale carenza che veramente grida vendetta al cospetto di Dio. La tratta ferroviaria Campobasso-Roma è tra le peggiori d'Italia e non ci voleva questo studio di pendolare per scoprirlo? Noi stiamo da molto tempo impegnati su questo, denunziando questi problemi da molti anni per la verità. Qualche risultato l'abbiamo ottenuto nel corso degli anni con la messa in sicurezza della tratta ma non un cambiamento decisivo come ormai è necessario. Noi non facciamo più neanche le denunze perché non fanno notizia. Una forte discontinuità rispetto ai disastri combinati dal precedente governo Michele Iori ancora non si riesce a vedere per cui c'è la necessità di fare una riflessione attenta perché siamo praticamente nelle condizioni che questo Molise è isolato dal mondo per cui da questo punto di vista ci dobbiamo imbognare affinché ridiamo alcuni diritti e ricreiamo un sistema di trasporto che ci possa far uscire dall'isolamento. C'è la necessità di vedere gli investimenti, si sa oramai che il Molise è isolato dal punto di vista ferroviario non c'è più un raccordo, tutte le stazioni sono solamente di transito per cui siamo isolati. E dal punto di vista della gestione di servizio praticamente la società trenitale fa un po' quello che vuole. Il fatto del binario 20 bis, il titolo di questa iniziativa, è un'imiliazione per il Molise perché il Molise viene relegato al 20 bis perché non viene proprio preso in considerazione nonostante che il Molise paga l'ingresso a Roma Termino uguale a qualsiasi altro treno non si capisce perché noi siamo cittadini di serie B. Parliamo ancora di politica e del Partito Democratico che ieri ha sancito l'ufficialità dell'elezione di Renzi alla segreteria del partito con l'Assemblea Nazionale. In una cerchia ancora più ristretta di quelle che erano le previsioni della vigilia Micaela Fanelli entra nello staff di Renzi insieme ad altri 20 sindaci. Ancora Giovanni Minicozzi. Il leader del PD Matteo Renzi non ha perso tempo e ha subito convocato l'Assemblea Nazionale eletta con le primarie dell'8 dicembre per ricomporre il mosaico del partito. Tra i mille componenti dell'organismo nazionale anche i quattro eletti nel Molise che hanno ricevuto incarichi prestigiosi a partire dai due componenti della direzione nazionale Paolo Frattura, membro di diritto in quanto Presidente di Regione e Laura Venitelli. Ancora più importante il ruolo affidato a Michela Fanelli che è entrata nell'organismo ristretto composto da 20 sindaci i quali affiancheranno i componenti della segreteria nazionale nella gestione del partito. Ieri è stato a Milano l'avvio di un PD che ha cambiato pelle e lo cambia con una nuova generazione. Un messaggio molto bello di incalzare nelle riforme per quello che riguarda il lavoro soprattutto le riforme istituzionali, i costi della politica per riavvicinare le persone alla fiducia della politica con quel grande moto popolare che è venuto dalle primarie dell'8 scorso. Renzi, leader ormai indiscusso che riproduce un'unità grande. In questo la gioia che contribuisce a vedere con fiducia questo percorso è anche una folta presenza di Molisani, la mia come uno dei 20 sindaci che darà una mano, proverà a dare una mano a Matteo Renzi soprattutto nel radicamento territoriale, nelle proposte che riguardano le amministrazioni e più in generale i difficili momenti che l'economia sta attraversando come ci ricordano anche i forconi e quindi oggi siamo ancora più attenti. In questa nomina chiaramente c'è un cambio verso del sorriso perché mi fa molto piacere che possa essere nella squadra più di diretto aiuto suo e con questo anche un impegno grande di responsabilità. Il mosaico è stato ricomposto all'insegna dell'unità interna ma nel Molise la contrapposizione tra Renziani e Cuperliani è ancora troppo evidente. Verso il Natale, verso l'anno nuovo io credo che questa rinnovata forza faccia placare un po' il friccicorio elettorale e ricomponga tutti in una missione molto diversa che non è quella di fare scaramucce interne, è quella di dare a questo paese un futuro e a questa regione un governo stabile che faccia le cose, che faccia le riforme, che soltanto il PD può guidare. E un Molise in questo ci sta benissimo, ha una guida renziana, noi contribuiremo a fare questo con un abbraccio con gli amici di Cuperlo per un PD che ha questa missione. Dunque pace in terra agli uomini di buona volontà, ma che ne pensa Danilo Leva? Cambio di partito per alcuni esponenti dei comunisti italiani. Fabio Dilio, Paolo Potalivo, Salvatore Tristano e Alessandro Ciccinelli hanno deciso insieme di entrare a far parte dei socialisti abbandonando Salvatore Ciocca. Gli ormai ex comunisti hanno spiegato che alla base della decisione ci sono motivi importanti innanzitutto i continui disagi per lavoratori e cittadini legati alla precarietà dei trasporti nonostante Ciocca sia il presidente della Commissione Trasporti e poi le modifiche alla legge sull'edilizia popolare che consente l'acquisto delle case per i meno abbienti anche a chi ha redditi alti. Ancora, e questo è uno dei motivi più gravi, hanno commentato i fuoriusciti dal partito dei comunisti italiani l'appoggio dato da Salvatore Ciocca a Matteo Renzi, uomo del PD, da sempre schieratosi contro i sindacati. Per questo e per altri motivi hanno concluso i quattro. Lasciamo il partito dei comunisti italiani ed entriamo a far parte dei socialisti che sicuramente meglio appoggeranno le nostre battaglie per il bene comune. A Campobasso è stato presentato un progetto per ridisegnare la città, una serie di iniziative per rendere più elevata la qualità della vita messe in campo da una neonata associazione di cittadini. Ce ne parla Giovanni Di Tota. La parte più vecchia della città, quella che racconta la storia e la fisionomia urbana del capoluogo, intrecciata a giro doppio con l'uso delle tecnologie. Attorno a questo binomio di antico e moderno ruota il progetto che un gruppo di cittadini che si è costituito in un'associazione ha voluto portare all'attenzione dell'opinione pubblica e poi eventualmente a quella degli amministratori. Centro storico dunque da rivalutare e rendere più vivo e vivibile e zone del centro, quello definito murattiano, destinate a un'isola pedonale più larga. Riteniamo che si debba creare una grande area pedonale che si colleghi al centro antico e ovviamente con servizi di viabilità diversi da quelli attuali e con un sistema diverso di parcheggi. Cioè è un'idea di città che stiamo dando e che stiamo proponendo a tutti i cittadini sperando di avere ovviamente il consenso perché poi gli amministratori comunali possono portare avanti questi progetti e realizzare queste idee. Negli ultimi anni tuttavia i sindaci hanno avuto come avversario e ostacolo a volte insormontabile non l'opposizione ma il patto di stabilità che ne ha di fatto ridimensionato, se non in alcuni casi impedito, l'azione di governo. Per dare una connotazione europea a campo basso occorre quindi anche una diversa impostazione nel prelievo fiscale. Gli investimenti si possono fare trovando soldi fuori dal bilancio comunale. Noi pensiamo naturalmente alla programmazione comunitaria 2014-2020 dove sono previsti specificamente fondi per le città. Pensiamo al piano casa dell'ex ministro Passera che è già partito in ben 28 città italiane per il recupero di aree degradate. Pensiamo al project financing cioè alla collaborazione dei privati, il comune ha l'idea, realizza il progetto dopodiché ovviamente il privato che mette soldi ne trae per un certo numero di anni un profitto. Pensiamo anche all'imposta di scopo, all'imposta comunale di scopo che si può qualche volta utilizzare per recuperare edifici storici, per restaurare monumenti ma anche per la viabilità, per i parcheggi. Pensiamo anche che si possono razionalizzare le spese all'interno del bilancio comunale. Il circolo per anziani, l'incontro di Campobasso, continua ad essere aperto regolarmente. Lo ha dichiarato il consigliere comunale Salvatore Cola Giovanni, smettendo così l'allarme lanciato da alcuni cittadini sulla chiusura della struttura a causa di problemi legati alla sicurezza. I tecnici del comune e i vigili del fuoco hanno fatto i necessari sopralluoghi, ha spiegato ed eseguito interventi per la sicurezza esterna del prefabbricato con la rimozione del cornicione pericolante. Quindi ha concluso il consigliere Cola Giovanni, il circolo resta aperto. Rendere l'auditorium di Isernia sede stabile di una scuola di teatro, danza e musica, una casa dello spettacolo, questa è l'idea lanciata dal comune di Isernia per lasciare aperta e funzionante la grande struttura di corso Risorgimento. La proposta è venuta fuori nel corso della presentazione del cartellone natalizio dell'auditorium. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Si comincia domani sera con il musical Natale anche qui, da Betlemme ai nostri giorni, a cura della comunità religiosa Il Mandorlo. Il 21 e 22 è la volta della Bella e della Bestia, che vedrà in scena i ragazzi dell'associazione Overture di Campobasso. Il 23 è Danilo Rea e l'orchestra dei solisti molisani. Il 26 è Ti porto all'opera, esibizione dei cantanti lirici Zernini. Il 28 torna il tratturo e infine il 29 è concerto contro il femminicidio. Questo è il programma natalizio dell'auditorium di Isernia, realizzato col patrocinio del comune. Noi più che altro abbiamo creato le condizioni perché tutti gli artisti, le associazioni potessero poi in un certo senso realizzare questo cartellone perché è grazie a loro che è stato possibile creare questo cartellone, grazie alla loro disponibilità che del resto ci avevano già dato nel settembre Zernino. Noi non abbiamo fatto altro che da collante e da gestire la parte logistica. Ma non finirà con i concerti di Natale l'impegno del comune per l'auditorium. Già si stanno cercando soluzioni che lo tengano in funzione stabilmente. Sicuramente uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare all'interno di questo auditorium una struttura stabile che lo tenga vivo quotidianamente per 365 giorni. Il fatto di aver inserito all'interno di questo cartellone la parte dei musical verte proprio su questo tema perché vorremmo creare le condizioni perché questo auditorio diventi anche una scuola delle arti dove si possono in un certo senso praticare le varie discipline di danza, canto e musica. Uno degli spettacoli Ti porto all'opera il giorno di Santo Stefano sarà messo in scena da quattro giovani cantanti lirici i Zernini, ragazzi che dopo aver studiato in Molise portano il bel canto in giro per l'Italia e per il mondo. Non è un esordio perché abbiamo fatto un concerto sempre noi tutti insieme durante le manifestazioni del settembre di Sernino, però sono contenta ed emozionata sempre. Quando mi esibisco a casa mia è sempre più emozionante. Qual è il programma di questo concerto? Che ci farete sentire? Allora, una prima parte sarà dedicata al repertorio operistico, tutti i brani molto vivaci, molto brillanti, poi dopo ci sarà una parte sacra e finiamo con il repertorio natalizio ovviamente. Bosco Faiete di Monte Vairano a Campobasso torna a vivere grazie all'intervento delle guardie ecologiche di Campobasso e all'amministrazione. Il servizio è ancora di Anna Maria Di Matteo. Per anni è stato lasciato nell'abbandono e nell'incuria, distrutto dall'inciviltà dei vandali. Bosco Faiete di Monte Vairano a Campobasso che doveva essere parco naturale, strumento di promozione turistica, rica a cielo aperto. Ma da qualche mese l'intera area è stata restituita al suo antico splendore grazie all'intervento delle guardie ecologiche di Campobasso e al sostegno dell'amministrazione comunale. La zona ora accoglie la sede nazionale dell'associazione Congeav, Corpo Nazionale Guardie Ecologiche e Ambientali e Volontari. La struttura è stata inaugurata alla presenza di diverse autorità. L'orgoglio del sindaco di Bartolomeo che l'indomani del suo insediamento aveva annunciato l'intenzione di valorizzare l'intera area. Qualche anno fa questo posto era inguardabile, così come era stato lanciato. Io l'ho creato come progettazione alla comunità montana, poi sono andato alla regione e l'ho finanziato, poi l'hanno attribuito a persone che probabilmente non meritavano di avere in mano una struttura come questa e costata 4 mila milioni. Dico di allora 4 miliardi, se dico 4 sembra nulla, 4 mila milioni. Io devo ringraziare queste guardie ecologiche che in poco tempo, in meno di qualche mese hanno ripulito, rimesso a posto. Beh, chi ha cuore, chi ha le capacità, chi ha rispetto per l'ambiente e per questo posto io farò in modo di lasciarglielo in gestione. Per la tutela del bosco, dei percorsi naturalistici e contro i fenomeni di bracconaggio saranno impegnati i volontari del Corpo Nazionale Guardie Ecologiche e Ambientali in Mountain Bike, la prima sezione nata in Italia. Noi ci proponiamo con una nuova sezione che è proprio la prima in Italia, è la sezione Mountain Bike Molise 1 della Congev. Siamo qui proprio per iniziare a fare un discorso abbastanza ampio sul territorio e tutelarlo in primis con un controllo ambientale dell'area e siamo proprio disposti a fare questo unendo anche l'utile al direttevole. Noi siamo dei ragazzi che si muovono in Mountain Bike da una decina d'anni e insomma con questo sport e questa attività sportiva andiamo a beneficiare di tutto quello che il bosco e le aree protette e naturali ci danno. Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato, veramente hanno dato un impegno costante, un impegno di tempo e anche di soldi, ma pur di portare alla cittadinanza di Campobasso e anche alle esigenze di altre persone magari che hanno bisogno di l'usufrizione di questo sito. Ridurre il divario digitale nei territori del sud-est d'Europa fornendo una scelta innovativa in termini di strumenti e soluzioni per una migliore accessibilità ai servizi a banda larga. È la finalità del progetto Silva di cui la Regione Molise è partner. L'obiettivo principale è che la stessa Regione si pone di accelerare la diffusione più ampia e il migliore utilizzo della tecnologia a banda larga creando più interazioni e offrendo più contenuti ai cittadini, ai governi locali e alle imprese. Open Day al Pilla di Campobasso che quest'anno ha giocato in anticipo invitando genitori e studenti a visitare l'istituto e la sua offerta formativa. C'era per noi Marta Martino. Primo Open Day al Pilla di Campobasso per illustrare a genitori e studenti l'offerta formativa della scuola. Abbiamo un percorso di studi che dà un diploma finito, ancora uno dei pochi percorsi di studi. Non finisce là perché se si studia bene si può iniziare a competere e mettersi alla ricerca di un lavoro sempre più difficile per tutti, già dopo il diploma, ma siamo convinti che se si studia bene e si viene per lavorare ci saranno comunque ottime possibilità anche per un percorso a livello di laurea, chiaramente in coerenza con il nostro percorso. Dopo il biennio quali sono gli indirizzi che i ragazzi possono scegliere? Ce ne sono diversi. Il fatto di avere un biennio comune è un vantaggio, per cui nel momento in cui arrivano nel nostro storico istituto loro hanno scelto di fare un percorso economico. Qui saranno ancora orientati in un biennio che potrà far far loro delle scelte dove si potrà prediligere ad esempio l'informatica e allora il percorso si chiamerà SIA, Sistemi Informativi Azientali. Potrà essere un percorso più classico che sarà il cosiddetto AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing. Può essere un percorso di relazioni internazionali dove c'è molta lingua all'interno di un percorso più classico e addirittura dallo scorso anno abbiamo anche il percorso turismo. E ora andiamo a Isernia dove nell'ambito delle manifestazioni organizzate per la settima giornata nazionale della Rete Italiana di Cultura Popolare le scuole hanno proposto una serie di spettacoli folcloristici. Sergio Di Vincenzo. Va avanti il progetto della Regione Molise che attraverso una serie di interscambi tra varie realtà italiane ed europee intende promuovere ben oltre i confini regionali un patrimonio fatto di storia, arte e grandi tradizioni, anche gastronomiche. In occasione della settima giornata nazionale della Rete Italiana di Cultura Popolare si è deciso di coinvolgere anche il mondo della scuola chiamato a riscoprire e tramandare quanto di bello c'è nei loro paesi. L'obiettivo è sempre quello di tramandare tutto quello che è cultura popolare è stato un piacere ospitare gli istituti di Campodipietra di Sernia, di Carpinone perché si è visto come lavorando nelle scuole le tradizioni vengono tramandate appunto ai bambini e i bambini poi a loro volta possono raccontarle è tutto un patrimonio immateriale che altrimenti va perso perché chiaramente non tutto è possibile raccogliere nei testi ma c'è tutto questo patrimonio di oralità popolare che va raccolto. Per il Formex questo progetto racchiude enorme potenzialità di sviluppo continuando su questa strada si potrà davvero dare benefici al settore turistico. Deve dare risultati altrimenti staremmo qui a perdere tempo il progetto sulla cultura popolare è inserito in un ampio progetto che stiamo seguendo dal 2009 qui in Molise stiamo cercando di far conoscere all'esterno oltre il territorio della regione Molise tutto quello che di eccellente c'è in regione Molise siamo convinti e su questo sono pronto a sfidare un po' tutti che sul campo della cultura e del turismo il Molise può avere sviluppo e può avere occupazione può avere molta occupazione per i nostri giovani perché vi sono delle eccellenze assolutamente poco utilizzate. La Col di Retti Molise commenta positivamente i dati diffusi dall'Istat che vedono il Molise tra le regioni con maggiore incremento nel valore dell'esportazione di vino più 23% e degli introiti più 8%. I consumatori, evidenzia l'organizzazione degli agricoltori sono sempre più attenti alla qualità dei vini e se diminuiscono le quantità consumate aumenta il valore di quello acquistato e l'interesse ai vini pregiati come quelli molisani. E torna a Campomarino il tradizionale appuntamento con i presepi nel borgo arrivato ormai alla decima edizione tante le natività esposte e realizzate a mano oltre alle miniature provenienti da tutto il mondo. Ieri anche uno spettacolo inedito delle indocce di Agnone. C'era per noi Manuela Iorio. Torna a Campomarino la mostra ai presepi nel borgo che quest'anno è arrivata la sua decima edizione. Un'esposizione di vere e proprie opere d'arte tra i locali all'interno del Paese Vecchio aperti apposta per l'occasione. Dalle opere più tradizionali a quelle più originali realizzate con la pasta di sale, con i vetri di bottiglia consumati dal mare, con la sabbia, con i mattoncini e poi le miniature, quelle che arrivano da tutto il mondo quest'anno anche dal Cile. La mostra è organizzata dall'Associazione Amici del Borgo presieduta da Costanza Carriero. Un traguardo importante, notevole e soprattutto pieno di passione perché insomma durare dieci anni, crescere piano piano, ricordo a me stessa e agli amici espositori che il primo anno erano soltanto dodici presepi, l'anno scorso ne abbiamo esposti 120 di quelli grandi, quest'anno non ho avuto il coraggio di contarli ancora, quindi è una bella edizione, la decima è importante. Ieri c'è stato anche uno spettacolo speciale con le indocce di Agnone. In forma ridotta, perché chiaramente Campomarino, almeno le strade del Paese Vecchio, non consentono più di tanto, però io sono contentissima, prima ho abbracciato i portatori di indocce perché mi hanno fatto questo regalo del tutto personale, il mio amico Pasqualino di Agnone si è adoperato per far sì che venisse fuori questa cosa e praticamente avremo modo di ammirare questa situazione nuova per Campomarino, ma di fatto anche per il Basso Molise. Mi risulta che siano andati soltanto a Larino in forma ufficiale e quindi oggi siamo orgogliosi a Campomarino di ospitare questi indocciatori che assolutamente vengono in forma veramente amichevole. Ma quando è possibile ancora visitare i presepi nel Borgo? Il 25 pomeriggio ci saremo, il 26 ci sarà la sfilata dei Cavalieri di Santo Stefano che anche quella oramai è tradizione, dopodiché il 28 ci sarà Massimiliano Colitti, un ragazzo di Campomarino con un concerto di pianoforte in chiesa, il 29 ci sarà in chiesa questo concerto gospel offerto dall'Associazione Borgo Antico. Il 6 gennaio l'arrivo dei Remagi con il maneggio di ogre. E ora andiamo invece a Rocca Ravindola dove è stato allestito un mercatino di Natale e in esposizione c'è il meglio dell'artigianato artistico e della gastronomia molisana. È inoltre possibile ammirare un'interessante mostra di arte contemporanea che raccoglie artisti provenienti da tutta Italia. Ancora Sergio Di Vincenzo. Non solo moda, in questi giorni all'Itty Fashion di Rocca Ravindola è possibile anche trovare qualche originale idea a regalo. Grazie ai mercatini di Natale, fino al 22 dicembre in mostra c'è il meglio dell'artigianato artistico e della gastronomia molisana, una vetrina importante per gli espositori locali. Un incontro, o meglio, una festa per i molisani, una festa per tutti quanti noi, intanto perché ricorre appunto questa festività natalizia, ma anche per incrementare, per far conoscere e soprattutto diciamo una sorta di abbraccio fra tutti i commercianti. Abbiamo pensato di unire questo artigianato artistico, una mostra, degli espositori importanti. Trovano anche dei prodotti tipici, trovano anche del miele, trovano anche della gastronomia di livello e di qualità. E ogni giorno andiamo a cambiare, metteremo un giorno un tipo di gastronomia fatta di olio, un altro magari di salumi. Ci sono anche tante mamme con tanti dolci, con tanti profumi di dolci fatti in casa, appunto li offrono a tutti i visitatori. Un angolo del mercatino è stato dedicato a una mostra collettiva di arte contemporanea. L'esposizione Christmas Art & Fashion, curata da Maria Antonietta Tortola e Francesco Mongello, raccoglie alcuni tra i più promettenti artisti italiani. Con la collaborazione dell'Associazione Culturale Pizziarte di Teramo abbiamo voluto così portare una serie di lavori di giovani artisti italiani, di arte contemporanea, che lavorano con tecniche molto differenti tra di loro. Alcuni sono apprezzati, anche abbastanza conosciuti a livello mondiale, probabilmente non ai più, non conosciuti ai più, ma è il tentativo di creare anche un connubio tra quello che è il fashion e l'arte. Naturalmente si tratta appunto di artisti di arte contemporanea e che hanno una varietà anche come produzione. E termina con quest'ampia pagina sulle manifestazioni natalizie, l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.